Esce fuoristrada e finisce con l'auto in un canalone di scolo, incidente sulla strada statale 106 a Crotone. Incidente stradale sulla strada statale 106 a Crotone. Una chiamata alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Crotone segnalava un incidente stradale sulla vecchia strada statale 106 in via degli Eucaliptus. Immediatamente una squadra con due mezzi si avviava dal comando di Crotone. All'arrivo sul posto, nel punto segnalato, vi era una vettura Volkswagen Golf uscita fuoristrada e finita in un canalone di scolo. All'interno della stessa una sola persona, AG 72 anni, originario di Crotone, impossibilitato ad uscire. Vista l'altezza del canalone si usava per il recupero anche una scala italiana per poter portare a livello strada e consegnare il malcapitato ai sanitari del 118. Per i rilievi del caos sul posto anche carabinieri e polizia.